Quando i dottori sono stati costretti ad amputargli le due zampe posteriori a causa di una malformazione congenita, Duncan Lu Hu, questo è il nome del coraggioso box, non sapeva che sarebbe presto diventato una star in tutto il mondo. Eppure è così, grazie infatti alle amorevoli e costanti cure che ogni giorno i volontari della Panda Post Rescue gli forniscono, Duncan è tornato alla vita e ora sta commuovendo il mondo intero. Molti gli appelli a sopprimerlo visto che non avendo gli arti posteriori avrebbe sofferto questa condizione di inferiorità, ma i ragazzi dell'associazione di Washington hanno combattuto contro i pregiudizi e questo è il risultato. Su Youtube infatti sta diventando virale un video in cui Duncan e i suoi amici a quattro zampe corrono liberi sulla spiaggia insieme ai volontari, schivano le onde, raccolgono i bastoncini e giocano felici insieme. Il boxer sembra assolutamente non risentire della pesante disabilità, anzi nel tempo è riuscito a ritrovare, grazie alla sua forza di volontà, un perfetto equilibrio. Tanto che lo vediamo correre senza paura verso il mare, la libertà e il suo futuro.